Anche la nostra dieta mediterranea è indicata per dimagrire, ma bisogna mangiare nel modo giusto. Prediligi le verdure come piatto principale cotte in olio d'oliva e bere acqua a volontà anche se sembra che le donne tailandesi mangino molto perché fanno sempre spuntini, se guardi da vicino vedrai che le porzioni che mangiano sono in realtà piccole. Ma, poiché fanno costantemente spuntini, il loro metabolismo è veloce. 1. Uno studio sulla rivista Nutrienza scoperto che i fagioli potrebbero essere anti-obesogenici, vuoi dimagrire almeno un giorno giugno e i legumi sono ricchi di micronutrienti come ferro e potassio e agiscono come potenti alleati nella lotta contro. L'obesit cucinare a casa 5 giorni alla settimana era associato a un maggiore consumo di frutta e verdura, un migliore controllo della glicemia e un migliore controllo della glicemia. Andare in bici fa dimagrire tonifica alle gambe. Pedalando, i muscoli si rafforzano, in particolare quelli delle gambe.